Il mio intervento è abbastanza rapido, nel fare gli auguri ai nuovi consiglieri eletti sia al comune che alla municipalità. Io inserirò anche questi dati che adesso vi ho ad elencare nella descrizione del video. In effetti praticamente io mi baso su questi dati per fare una semplice analisi e poi magari si può restare a capire una riflessione. Partendo dal presupposto che rispetto ai comunali del 2011 il movimento praticamente ha guadagnato il 7,9% in quanto praticamente nel 2011 aveva una percentuale del meno 76%. Mentre invece praticamente a queste ultime elezioni abbiamo totalizzato per la lista il 9,66% con 36.359 euro. Questi dati sono dati del ministero dell'impero e quindi facendo questa comparazione qua è da vedersi in positivo questo risultato. Però io faccio anche un'altra riflessione. Rispetto allo scorso anno nella circoscrizione di Napoli, quando si è votato sulle regionali praticamente praticamente a Napoli si erano presi 70.945 voti per quanto riguarda parliamo della lista giustamente. E questo praticamente nella circoscrizione di Napoli aveva comunque comportato il 24,85%. Quindi volendo fare questa differenza rispetto al voto attuale abbiamo perso il 15,22%. Magari si potrà obiettare di dire ma quelle erano elezioni regionali e queste erano elezioni comunali. Ma io sto parlando soltanto della circoscrizione diciamo di Napoli, la circoscrizione parliamo delle persone che ha ruopato su Napoli. E questo praticamente è un dato assolutamente voglio dire che fa riflettere. Cioè abbiamo abbiamo comunque perso esattamente oltre questa questa percentuale persi 34.586. Questo diciamo induce anche a riflettere perché comunque quasi 35.000 cittadini cartianopei insomma ci hanno girato le spalle sostanzialmente. Quindi niente la mia diciamo questa questa analisi cruda nei suoi dati poi dopo comunque si posta anche diciamo ad una riflessione il perché si è arrivati diciamo poi dopo a questi dati. Io diciamo almeno mi sono fatto comunque una mia opinione che in tutto sia partito diciamo da quella lettera a livello nazionale che scrissero diciamo che avallarono i nostri i nostri portavoce Roberto Figo e Alessandro Di Battista. Cioè da quella da quella lettera che praticamente andava a regolamentare secondo loro l'utilizzo del diciamo del luogo del movimento e quindi anche il fare diciamo della informazione attraverso diciamo Gazebo e Banchetti. Fatto sta che nel momento in cui è scattata quella lettera che poi tra l'altro non è stata assolutamente osservata diciamo in tutta Italia tanto è vero che comunque in tutta Italia basta comunque guardare guardare diciamo filmati e fotografie diciamo sulla rete. Cioè ogni città si è comportata diciamo in un momento. Sono fattuti? Mentre invece comunque a Napoli cioè da quel preciso momento in poi cioè si è interrotta la comunicazione e l'informazione tra i cittadini e diciamo l'attivismo. È l'attivismo praticamente sul territorio quindi io c'è a debito poi dopo progressivamente perché tenete in considerazione che in effetti praticamente noi intesi come attivisti cioè siamo scomparsi dal territorio dalla città cioè nel giro di otto mesi. Cioè in otto mesi i cittadini non ci hanno più visto e anche se sporadicamente in qualche quartiere della città anche senza uso di loghi ci sono stati attivisti che hanno comunque proseguito una certa azione come posso dire di divulgazione e di informazione. Dei principi del movimento quindi su quella loro non si potevano mai appellare ma questo tra l'altro poi dopo non è stato neanche poi dopo condiviso con il restante diciamo con il restante dei quartieri per cui sono state se vogliamo delle iniziative e poi dopo sindoli. I medici non so dire credo che comunque non sarà facile andare a recuperare la fiducia diciamo di queste persone che comunque si sono allontanate. Ciò non toglie come ho detto all'inizio cioè augurando comunque il buon lavoro e le migliori sorti alle persone che comunque con il movimento sono entrate augurandoci insomma che possono svolgere con tranquillità e serenità il loro lavoro e fare operazioni di controllo. di controllo diciamo per quanto riguarda l'amministrazione diciamo parte no parte europea però niente diciamo io la mia la mia analisi è un'analisi semplice basata diciamo su questi dati che poi non sono dati che diciamo mi sono inventato ma sono dati diciamo del ministero dell'interno. Questa parte è una domanda nel tuo intervento. Si si dì. Rottiene che qualcuno abbia il risultato in preciso a questo risultato? Ma io cioè più che nominativi andare nello specifico cioè è proprio come posso dire organizzativamente ci siamo 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 giunti diciamo a questo risultato per una ripetizione nel momento in cui cioè non c'è stata più la possibilità di poter interfacciare interfacciarci con i cittadini giustamente cioè siamo scomparsi dal territorio e quando siamo ritornati quando siamo ritornati poi dopo comunque in occasione della campagna comunque preelettorale. Comunque già era diciamo troppo tardi nel senso perché cioè il tempo esiguo che c'era comunque a disposizione per recuperare un certo rapporto con la cittadinanza cioè comunque già si era andato si era andato diciamo disgregante. Quindi io non ne faccio diciamo una questione soltanto c'è via debitare. E' chiaro che ovviamente c'è chi si è occupato di gestire poi dopo comunque chi era delegato sulla città diciamo parte europea ci sono comunque persone che erano preposte che erano preposte diciamo a seguire praticamente il tutto per quanto riguarda diciamo la gestione organizzativa diciamo. Questo è un'analisi. E' un po' la teoria del marchese del vero. Non so che cosa non so questo diciamo che poi per il futuro adesso io non so che cosa comporterà. Cioè questa è soltanto un'analisi se vogliamo anche a freddo diciamo di un numero. E torno a dire guardando guardando il rapporto tra le precedenti comunali e quelle attuali c'è la percentuale in positivo per cui praticamente il ragionamento che si viene a dire dice ok ma noi abbiamo preso questo 7,9% inserendo comunque un paio di persone all'interno. Ma infatti io nel passaggio dico. Ma infatti a me quello che non regge di tutta quei 5 minuti della conferenza stampa di Roberto è proprio quello dove lui dice il movimento gode ottima salute tutto quanto siamo arrivati in punti a piedi. Napoli oggi è la Roma e la Torino di E. Ok vogliamo fare opposizione cosa che non ha fatto Lettieri in questi 5 anni. E tu non fai in modo che sul territorio la gente, i cittadini conosca nel Movimento 5 Stelle i candidati e tu in giunta non li spacchi con due e ne fai entrare almeno dieci. Dieci non due, dieci. Questa per me è opposizione. Almeno dieci. E lui ha strozzato questa cosa. Poi a Napoli perché si è seguita la lettera di Totò e Peppino alias Fico di Battista e li chiamo onorevoli, anzi disonorevoli. Non i portavoce prestati alla politica, i cittadini prestati alla politica. A Napoli si è seguito tipo come le sure del Corano da qui i talebani perché c'era il controllo. Questa mania di controllo di chi? Di gente. La maggior parte che praticamente sul territorio attivamente le cose non le fa e non le sa fare ma critica solo ed impedisce. Oggi è la dimostrazione che questa riunione è fatta da quattro gatti perché le persone se erano veramente oneste, la famosa onestà intellettuale, la famosa onestà di cui si riempia e si dava la bocca al Movimento 5 Stelle, dovevano stare qui ad ascoltare, a rispondere e forse magari a considerare che c'è sempre un'azione e quindi una reazione uguale e contraria. Che può essere quella dei cittadini, che può essere quella di Napoli libera. Io voglio dire una cosa di Napoli libera. Io se fossi il giudice, e io questa è una cosa che ho detto proprio chiaramente, li avrei espulsi per coglioneria strategica fallimentare. Perché se io in assemblea dal 3 ottobre vedo una continuazione, Luca Capello che urla come un pazzo e gli dice, gli ribadisce, deve venire pure il grillo. E allora noi in assemblea, la volontà assemblearia, parliamo di metodo, parliamo di vista, parliamo di metodo, parliamo di vista, se il 21 novembre prende il microfono, si azzarda a dire qualcosa, vedo, l'ora di vita che urla come Natila, quasi gli strappa il microfono la mano. Poi vedo Penuso che in maniera più, con toni un po' più pagati, dice la stessa cosa e Luca mi risponde, scusate signori, la segretezza...